Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video molto particolare perché ho fatto degli acquisti. Ho fatto degli acquisti da Beauty Bay. Non vi faccio vedere tutto quello che ho acquistato perché credo di farvi più di un video. Perché ho fatto un acquisto da McBeauty e un paio di acquisti di Morphe. Lo so, lo so, mi sono già castigata. Quindi ho chiuso il portafoglio, nel senso l'ho buttato perché senza soldi che te lo tieni a fare. E niente, cosa voglio farvi vedere? Allora, per prima cosa ho acquistato un pennello che... Questo pennello io l'ho visto da suggerimenti, suggerimenti, da Clio Makeup. In un video, oppure su Instagram adesso non mi ricordo. E lei ha nominato questo pennello che è il migliore in assoluto per quanto riguarda il correttore. Ovviamente, che fai? Non lo prendi. Ovvio che Clio Makeup è come Giulia Cova per me. Che ogni volta che lei nomina una cosa, io lo devo subito andare a comprare. E quindi ho preso questo pennello. L'ho preso da Beauty Bay perché l'ho cercato da Sephora e non c'era. Ma invece ho guardato un paio di giorni fa ed è ritornato disponibile da Sephora. Però, se non mi sbaglio, è solo negli store. Quindi, se volete prenderlo, dovete assolutamente andare allo store per prendere il pennello. Ve lo faccio vedere proprio nella sua bellezza, nella sua splendicicità. Che è questo. È bellissimo perché ha questa conca bella ondata. Ed è proprio adatto, lei dice, a mettere il correttore. Ovviamente, io lo laverò e poi lo utilizzerò proprio per vedere se mi piace oppure no. Così, se mi dovesse piacere, vado a comprarlo direttamente qui da Sephora. E poi, per nominare l'altra, diciamo, artefice per quanto riguarda i miei acquisti, Giulia Cova, lei ha fatto vedere sempre questi due prodottini. Ora, questi due io non mi ricordo se li ho presi da Look Fantastic, perché avevo preso la box e mi doveva arrivare anche questo. Però non mi ricordo se li ho presi da Look Fantastic o da Beauty Bay. Comunque, vi metterò giù nell'info box, se riuscirò mai ad aprire la confezione. Vi metterò i nomi dei prodotti e i relativi prezzi. Allora, questi sono quei rossetti liquidi, tinte labbra, come li volete chiamare, li chiamate, che tamponando con le labbra rilasciano dei glitter pazzeschi. E quindi io non vedevo l'ora di prenderli. Io ve li faccio vedere così, non ve li faccio vedere applicati, perché ovviamente già sono truccata. C'era la composizione, diciamo, con questi due, che sono in mini size. Adesso vi dico i nomi se li trovo. Sono molto molto carini come rossetti. Poi ovviamente farò un video e li proverò, perché così ovviamente non vi so dire niente. Questo, come si chiama il duo? Ah, è qua, sì, ciao, è scritto... C'è il fucsia che si chiama surreal e l'altro che si chiama valentine. Quindi questo bordeaux è surreal e questo è valentine. È abbastanza chiaro come colore, non lo so se mi sta bene, devo dire la verità, non lo so. Comunque vi farò sapere. Ovviamente per ultimo vi lascio la mia giga. Poi, ovviamente sempre spulciando Beauty Bay, ho visto che c'erano questi ombretti liquidi in offerta e molte ragazze avevano messo dei feedback positivi e quindi li ho voluti prendere. Ne ho presi due che si chiamano liquidi, crystal e shadow. La scatolina è questa, è bella olografica, vedete come vi specchia questa cosa olografica. Molto molto carino. Se riesco a leggere anche il nome sarebbe meglio. Uno si chiama Opal e uno si chiama Fluorite. Io e l'inglese siamo due poli opposti. Questi dovrebbero essere simili a quelli di Stila. Questo è il packaging, devo dire che è molto carino come packaging. E vediamo com'è questo ombretto. Questo era il più famoso di tutti, questo è Opal, sì. È il più famoso di tutti, nel senso aveva molti feedback positivi. Ed è molto molto carino. Molte ragazze li utilizzano anche per le labbra, ma io avendo anche i gloss di questa fattezza non c'è bisogno. Questo è Opal. Vabbè, vi metterò anche l'altro e ve lo farò vedere. Comunque si vede che è molto molto luminoso, eh. Si vede. Vi faccio vedere l'altro. Sì, lo so, faccio dei video lunghi. Sto cercando di abbreviare, di farvi più video, ma abbreviati. E questo è Fluorite. Questo è molto carino e forse ho qualche dupe di questo. Perché mi sembra un colore già visto, eh. Così, dalla boccetta. Io ovviamente non li ho, sì, forse qualcosa di simile ce l'ho anche di stile. Se non mi sbaglio. Ed è questo. Vedete che colore? Cioè è una luce propria. Cioè io lo dovrei mettere come punto luce ed è fantastico. Molto molto bello. Davvero molto bello. Poi avevo un desiderio perché avevo preso già gli altri fratellini per quanto riguarda stila. Questo è tipo sirena comunque. Aspettate ve lo faccio vedere più vicino. Non so se si vede perché ovviamente c'è la luce. Vedete? Tipo sirena. Molto molto bello. Molto molto bello. Comunque, avevo preso già altri fratellini per quanto riguarda stila. Ma ero innamorata di questo. Mi piaceva tantissimo. Sapete quando non vedete l'ora di prenderle, è una cosa che è particolare, è tutto, la volete, la volete, la volete. La volevo. E sto parlando di perlina. È molto bella. Io ho altri 4, 4, 5 per quanto riguarda questi qui di stila. Mi ci sono trovata bene. Li ho utilizzati per una comunione o cresi ma non mi ricordo. E ha tenuto tutto il giorno. Una bellezza stratosferica. Scusate che lo scegherò perché ovviamente è stato messo in posizione. Questi sono quelli di stila. Il packaging è bellissimo ed è molto simile a quello che avete visto poco fa. E questo è un tripudio di glitter. È bellissimo. Molto molto bello. Molto molto bello. Guardate. Mettetevi gli occhiali da sole. Vi è cieco, vi è cieco, vi è cieco, vi è cieco. Guardate che bellezza. Luce, luce proprio. Questa riflette tantissimo la luce perché ha delle perle all'interno e dei glitter perché è molto duochrome. Perché il primo che vi ho fatto vedere ha delle tonalità sul verde e rosa. Poi quello che vi ho fatto vedere è tipo sirena che è molto molto bello. E questo ha proprio dei glitter. Tipo io ad esempio messa così, gli vedo dei puntini viola. Poi se lo metto così sono azzurri. E poi ce l'ha anche rosa. Cioè in base a come mettete l'occhio oppure come diciamo viene riflessa la luce artificiale negli occhi, ti dà questo riflesso. Ed è una cosa pazzesca. È molto molto bello. Mi strapiace tantissimo. Adesso vi faccio vedere la chicca. E credo di finire qua. O vi faccio vedere anche quella di Beauty Bay. Di Maki Beauty scusate. Vabbè dai vi faccio vedere anche quella di Maki Beauty. Che ho preso. Qua c'è lo scatolino. Vi metterò tutte e due dai. Ve li metterò tutte e due. Così non mi dite niente. Vi metterò tutte e due. Così anche capite perché ho fatto dopo l'acquisto. Allora per quanto riguarda invece Maki Beauty. Io ho preso il pennello di Nabla. Perché è sold out dappertutto. E siccome dicono che l'illuminante se non lo mettete con questo non vi viene bene. Io sono come San Tommaso. Ci devo mettere il naso. E quindi ho deciso di acquistarlo. Questo è il pennello proprio adatto per l'illuminante. Quindi non vedo l'ora di verificare se è così. Ovviamente è quello di Nabla. L'originale. E l'ho preso da Maki Beauty. Sempre da Maki Beauty ho preso questo set di pennelli. Sempre perché Giulia Cova ne ha parlato benissimo di questo set di pennelli. Lo volevo provare assolutamente proprio per fare la skin girl. E quindi non vedevo l'ora di utilizzarlo. Ha vari pennelli che servono per vari usi ovviamente. Grazie Stefania per la dritta. Sì. E quindi non vedevo l'ora di utilizzarli. Perché mi piacciono. Mi piacciono proprio perché hanno le setole ottime. Se c'è scritto vi dico anche per che cosa serve. No. Qui in italiano non c'è scritto. Perché li fate trasparenti e mi fate attorcigliare gli occhi? Allora. Uno è per applicazione base viso. Che dovrebbe essere questo qui. Che serve per applicare le creme. Poi. Una è a sfera ravvivante zona pericolare. Ed è questa qui. Quella che mi serviva a me quando metto la crema sul contorno occhi. E volevo questo. Proprio perché ha una sfera. E vi aiuta. Perché ovviamente la sfera è abbastanza fresca. E vi aiuta tantissimo. Per la circolazione del sangue. In poche parole. Poi. Aspettate che cerco l'altro. È bellissimo cercarli così. Uno è un pennello esfoliante viso. Che dovrebbe essere questo qui. E poi c'è l'ultimo. Che è più stronzo. Perché non lo vedo. Ah. E uno è per pennello esfoliante labbra. Che sarebbe questo. Io molto spesso per quello. Per quanto riguarda le labbra. Io metto o i buri cacao. Che sono messi nei pottini. Quindi per non mettergli il dito. E inserisco questo. E utilizzo. Invece per quanto riguarda questo. Che è per le creme. Queste qui per esfoliare. Diciamo. Scrabbare le labbra. Io di norma non lo utilizzo. Allora. Io l'ho preso di più per questo pennello. E questo qui per le creme. Perché molto spesso le creme mi secca. Infilarci le dita. Io ce n'ho una qui a portata di mano. Se non mi sbaglio. No. Ti sbagli. Vabbè ce n'ho una qui. Ecco. La crema così nel barattolo. E mi secca. Immelgere le mani. Per utilizzarla sul viso. E quindi preferisco. Diciamo. Utilizzare un pennello. E applicare. In tutto. E questo. Era per quanto riguarda. Make Laila. Cosa è successo? Io ho fatto un ordine. Perché volevo. Lo specchio. Di Jeffree Star. Lo volevo assolutamente. Mi piaceva tantissimo. E quindi lo volevo acquistare. Ma il colore era diverso da come io l'avevo visto. Nel senso non è arrivato il colore che io volevo. E soprattutto è un po' scheggiato nella punta. Loro mi hanno rimborsato con un codice sconto. Ma io ancora non l'ho utilizzato. E questa cosa è successa prima che mio papà si sentisse male. Quindi un bel po' di mesi fa. Quindi potevo ancora cambiare. Lo cambierò ovviamente con un'altra cosa. Sto parlando dello specchio che si trova in questa confezione. Non so se vi farebbe piacere anche riceverlo. Perché io non lo utilizzo. Perché poi ho comprato un altro. E quindi lo specchio in questione è questo. Ed è quello dorato. Vedete è dorato. E poi ha... Spero di non accecarvi. E questo è lo specchio. Non vi faccio vedere dov'è scheggiato. Perché è una punta. Poi in caso se volete mi mandate un messaggio. E io poi... Cioè è una cosa lieve. Però che sinceramente io pagandolo mi dà fastidio. Allora sarebbe qua nella punta qua sopra. È un po' scheggiato. Però ovviamente vi farò poi... Se mi dite di sì io ve lo metterò come giveaway in qualche video. Perché sinceramente non me ne faccio niente di averlo. Perché ho preso la mia chicca. Ho preso quello che io volevo. L'ho preso da Beauty Bay. E io lo volevo assolutamente. Proprio volevo questo colore. Però la coron... Ve l'ho detto. Non c'era la Maki Beauty. Quindi l'ho preso da Beauty Bay. E ho preso la coroncina. Io l'adoro. Già le Makeup Angel l'hanno vista. Perché gliel'ho subito fatta vedere. Ero molto contenta di questo acquisto. Ed è la coroncina. Ed è questo qui che ha bello. Adesso la vedrete spesso nei miei video. Perché la utilizzerò mentre mi trucco. Oddio. E in questa devo dirvi che si vede tutta la mia facciona. Ebbene sì. Sì. Mi sono truccata bene. Devo dire che mi sono truccata bene. Voi cosa ne dite del mio trucco? Io lo vedo bene. Sì. Il distacco c'è tra il fondotinta... Tra il viso e il collo. Lo noto. Sì. Un pochettino lo noto. Devo dire la verità. Un pochettino lo noto. Lo specchio è così. Vedete? Vabbè. Ciao luce. È a forma di corona. Mi piace tantissimo. Perché poi è viola. Ed è bellissimo. Sì. Ciao. Bel make up. Devo dire che sei stata molto molto brava. Mi piace questo make up. E devo dire che il rossetto, sì. Ti potrebbe andare bene. Volete sapere questo make up come l'ho realizzato? Sicuramente già l'avete visto prima di questo. Sicuro, sicuro. Se non l'avete visto ve lo linkerò qui sopra. Ok? Ciao, ci vediamo dopo. Quando ti devi struccare. E niente. Dopo queste cavolate varie perché se una si riprende o si riprende male o si riprende come me, malissimo. Per quanto riguarda questi acquisti io ho finito. E che dirvi? Scrivetemi giù nei commenti qual è la cosa che vi è piaciuta di più. E aspettatevi dei giveaway, quindi associati a Instagram. E soprattutto aspettatevi un video enorme. Cioè, no enorme. Grande. Non voglio esagerare perché non mi piacciono quei kickbait che mettono nel titolo. Mi piacciono i pennelli. No, perché io da morfe ho preso... Non vi spoilerò niente. Ci vediamo al prossimo video ragazzi. Quindi, come vi ripeto sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!